Mercoledì 1 marzo è stato inaugurato a Nicosia un nuovo murale, realizzato dall'artista Filippo Miritello, nel piazzale dell'ex educatorio, raffigurante alcuni soggetti che richiamano scene di guerra, purtroppo tanto attuali in questi ultimi tempi. Presente all'evento il sindaco ed alcuni componenti dell'Aggiunta e del Consiglio Comunale. L'opera rientra nella completa riqualificazione di una delle zone più trafficate di Nicosia, dove si svolge il mercato settimanale del sabato. L'artista Filippo Miritello, a 24 anni, è nato a Nicosia, vive e studia a Bologna, ha frequentato la Scuola Internazionale di Comics di Torino e lo IED, l'Istituto Europeo di Design, a Firenze. I suoi murales si possono ammirare in diverse città italiane, tra cui a Torino, a Bologna e in Sicilia, a Tusa.